Nel gennaio 2021, ero responsabile di un progetto in chiusura. I miei fratelli sono stati trasferiti e siamo rimasti solo io e pochi collaboratori per gli ultimi dettagli. In quel momento pensavo a ultimare il mio lavoro e a svolgere il mio dovere fino alla fine. Con mia sorpresa, un giorno ho saputo che una delle mie collaboratrici era stata promossa leader del lavoro evangelico. Sapere questo mi ha atturbata e anche un po' amareggiata. Perché non avevano promosso me? Non potevo diventare anch'io leader o supervisore? Ma poi ho pensato, forse è perché lei è una lavoratrice più capace, quindi è stata promossa per prima. Comunque, il mio lavoro qui non è finito e anche i miei collaboratori hanno ancora dei compiti. Quindi, quando il lavoro sarà finito, probabilmente ce ne verranno assegnati di nuovi. Ma poco tempo dopo, i miei altri tre collaboratori sono stati anche loro promossi a leader o supervisori della chiesa. A prendere questa notizia, ha cresciuto il mio disagio. Tutti erano diventati leader e lavoratori, mentre io ero ferma e dovevo pure sostituirli in tutto il lavoro. Sembrava dovessi occuparmi di tutto fino alla fine. Anche io ero parte del gruppo, quindi perché erano stati promossi tutti tranne me? Ero davvero così scarsa. Sembrava che i miei fratelli reputassero gli altri migliori di me. Quindi, ero peggiore di tutti i miei collaboratori. I miei leader pensavano che non valesse la pena coltivarmi. Avevano pregiudizi su di me. Non volevo subentrare agli altri. Più lo facevo, meno potevo dedicarmi ad altri tipi di lavoro. Per quando avessi finito questo, gli altri avrebbero già fatto pratica nei nuovi compiti, col nuovo lavoro, padroneggiato dei principi, mentre io sarei stata una principiante. Se mi avessero assegnata a predicare il Vangelo o ai rigari neofiti con un mio ex collaboratore come supervisore, il divario sarebbe stato molto imbarazzante. Più ci pensavo e più stavo male. Quando mi hanno chiesto di assumermi i compiti degli altri, ero ostile e non volevo farlo. Per più di due giorni non ho cercato di imparare i compiti a me affidati. Non sono stata scrupolosa, ho rimandato e non ho seguito il lavoro. Incurante di quali problemi dovessero essere risolti o di come fare bene le cose. Anche se mi ripetevo di obbedire all'ambiente predisposto da Dio, mi sentivo demotivata e disinteressata. Non sapevo cosa dire in preghiera e non leggevo col cuore le parole di Dio. Ti sei resa conto che c'era qualcosa che non andava in te? Ne ero un po' consapevole. Allora ho pregato davanti a Dio. Dio, sono stata riluttante ad assumermi il lavoro degli altri. So che il mio stato è sbagliato, quindi ti prego di guidarmi a conoscere me stessa. Dopo ho letto un passo delle parole di Dio, che mi ha fornito una certa consapevolezza. Ora voi svolgete i vostri doveri a tempo pieno. Non siete limitati né vincolati dalla famiglia, dal matrimonio o dalla ricchezza. Siete già usciti da tutto questo. Tuttavia, nozioni, fantasie, conoscenze, intenti e desideri che vi affollano la mente restano immutati. Quindi, in qualunque questione che abbia a che fare con la reputazione o lo stato o che possa darvi visibilità, ad esempio, quando la Chiesa intende coltivare vari talenti, fremete e ciascuno di voi vuole affermarsi ed essere riconosciuto. Tutti lottano per prestigio e reputazione e se ne vergognano, ma se non lo fanno, si sentono ancora più a disagio. Provano invidia e odio quando qualcuno si distingue, ritengono che sia ingiusto e nutrono risentimento. Pensano, perché non sono io a spiccare? Perché sempre gli altri ottengono gloria? Perché non tocca mai a me? E provano rancore. Cercano di reprimerlo, ma non ci riescono. Pregano Dio e si sentono meglio per un po'. Ma quando si ritrovano nella stessa situazione, non riescono comunque a superarla. Non è una levatura immatura? Non sono forse prede della trappola di Satana? Ecco le catene della natura satanica che legano l'uomo. Più lotti, più le tenebre ti circonderanno e maggiori saranno l'invidia e l'odio che proverai e il desiderio di ottenere. Più desideri, meno avrai e più aumenterà il tuo odio e crescerà l'oscurità nel tuo animo. Più ce n'è dentro di te, peggio farai il tuo dovere e meno utile sarai per la casa di Dio. È un circolo vizioso concatenato. Se non riesci mai ad assolvere al tuo dovere, allora verrai estromesso. Amen. La parola di Dio rivelava il mio stato. Mi sentivo così ostile e scontenta perché non ottenevo reputazione e prestigio. Veder promuovere i miei collaboratori turbava il mio cuore. Speravo di essere promossa anch'io per ottenere prestigio e stima, ma quando non è successo e i leader mi hanno fatto ricoprire i posti vacanti, ho provato invidia e ho creduto che avessero pregiudizi su di me o che non mi stimassero. Considerare di essere la peggiore agli occhi dei miei leader e che tutti i miei collaboratori erano stati promossi a leader e supervisori mentre io non avevo una posizione mi rendeva infelice e scontenta. Ho sfogato la rabbia nel dovere, ho trascurato i compiti e non ho messo il cuore nel mio lavoro. Dio odiava vedermi in questo stato di ribellione. Non sapevo cosa dire in preghiera. La Sua parola non mi illuminava. Nel dovere, peggioravo. Dio dice che competere per il prestigio porta oscurità e io ne ero preda. Sì. Se ripenso a quel periodo, ricordavo il mio voto a svolgere il mio dovere fino alla fine, ma quando ho visto gli altri promossi e il mio desiderio di prestigio inesaudito, ho perso interesse nel dovere. Il mio desiderio era troppo forte. Dovevo risolvere il mio stato cercando la verità. Giusto. Ho letto la parola di Dio su come vedere la promozione e la coltivazione e ha risolto il mio stato. Guardiamone un video. Va bene. Dio Onnipotente dice Se ti ritieni adatto a essere un leader in possesso del talento, della levatura e dell'umanità necessari al ruolo, eppure la casa di Dio non ti ha promosso e i fratelli e le sorelle non ti hanno eletto, come dovresti trattare la questione? Qui c'è un percorso su cui puoi praticare. Devi conoscere a fondo te stesso. Cerca di capire se hai effettivamente un problema con la tua umanità, se le persone sono ripugnate da qualche aspetto della tua indole corrotta, se sei privo della realtà, della verità, e gli altri non ti trovano convincente, o se svolgi il tuo dovere in modo insoddisfacente. Devi riflettere su tutto questo e vedere in cosa esattamente sei carente. Dopo aver riflettuto per un certo periodo di tempo e aver individuato il tuo problema, devi tempestivamente ricercare la verità per risolverlo, entrare nella realtà della verità e sforzarti di ottenere un cambiamento e di crescere, in modo che, quando chi ti sta intorno lo vedrà, dirà In questi giorni è migliorato molto rispetto a prima. Lavora con scrupolo, prende sul serio la sua professione e presta particolare attenzione ai principi della verità. Non agisce impulsivamente, né in modo superficiale e negligente, ed è più coscienzioso e responsabile nel suo lavoro. In passato era solito mettersi in mostra, mentre ora è molto più discreto e non più prepotente. non si vanta delle sue capacità e, quando ha finito di fare qualcosa, ci riflette su più volte, per paura di sbagliare. È molto più cauto nell'agire, ora teme Dio nel suo cuore e, soprattutto, è in grado di condividere la verità per risolvere alcuni problemi. In effetti, è cresciuto. Quando coloro che ti circondano avranno interagito con te per un po' di tempo, si renderanno conto di quanto sono evidenti il tuo cambiamento e la tua crescita. Nella tua vita quotidiana e nel comportamento che assumi con gli altri, nel tuo atteggiamento verso il lavoro e nel modo in cui tratti i principi della verità, ti impegni molto più di prima e sei più rigoroso nel parlare e nell'agire. Se i fratelli e le sorelle vedono tutto questo e lo assimilano, allora forse potrai candidarti alle prossime elezioni. Come candidato, avrai una speranza. Se riuscirai davvero a compiere un dovere importante, otterrai la benedizione di Dio. Se ti sei veramente assunto un fardello, possiedi tale senso di responsabilità e desideri fartene carico, allora affrettati a formarti. Concentrati sulla pratica della verità e impara ad agire secondo principio. Quando avrai esperienza di vita e sarai capace di scrivere saggi di testimonianza, sarai davvero cresciuto. E, se sarai in grado di testimoniare Dio, allora potrai certamente ricevere l'opera dello Spirito Santo. Se lo Spirito Santo opera, allora Dio ti guarda con favore e, con lo Spirito Santo a guidarti, presto si presenterà la tua opportunità. Forse ora porti un fardello, ma la tua levatura è insufficiente e la tua esperienza di vita troppo superficiale. e quindi, anche se dovessi diventare un leader, saresti incline a inciampare. Devi perseguire l'ingresso nella vita, eliminare i tuoi desideri smodati, essere un seguace motivato e imparare a obbedire a Dio con sincerità, senza parole di risentimento per qualsiasi cosa egli orchestri o pianifichi. Quando sarai in possesso di una simile levatura, la tua opportunità giungerà. Il fatto che tu voglia assumerti un pesante fardello che te ne faccia carico è una cosa buona. Dimostra che possiedi un cuore positivo e propositivo e che desideri seguire la volontà di Dio e tener conto delle sue intenzioni. Non si tratta di ambizione, ma di un autentico fardello. È la responsabilità di coloro che perseguono la verità e l'oggetto della loro ricerca. Se sei disinteressato e non lo fai per te stesso, ma per testimoniare Dio e soddisfarlo, allora ciò che stai facendo è quanto di più benedetto da Dio ed Egli prenderà per te le disposizioni adeguate. La volontà di Dio è quella di ottenere un maggior numero di persone capaci di rendergli testimonianza. È quella di perfezionare tutti coloro che lo amano e di creare il prima possibile un gruppo di persone che abbiano menti e cuori in armonia con Lui. Pertanto, nella casa di Dio, tutti coloro che perseguono la verità hanno grandi prospettive e le prospettive di coloro che amano Dio sinceramente sono illimitate. Tutti dovrebbero comprendere la Sua volontà. È in effetti positivo portare questo peso ed è qualcosa che chi è dotato di coscienza e ragione dovrebbe possedere, ma non tutti saranno necessariamente in grado di assumersi un fardello pesante. Da dove deriva questa discrepanza? Per quali che siano i tuoi punti di forza o le tue capacità e per quanto alto possa essere il tuo quoziente intellettivo, ciò che è fondamentale sono la tua ricerca e il cammino che percorri. Amen! La parola di Dio dice che essere un meno promosso e coltivato dipende dalla tua ricerca e dal tuo percorso. Se persegui la verità e ti assumi un fardello e hai la levatura e il talento, la casa di Dio ti promuoverà e ti affiderà dei compiti importanti. Se invece non persegui la verità e prendi la strada sbagliata, anche se diventi leader, lo sarai per poco. Persone così non sono adatte alla promozione. È vero. È vero. Ho applicato la parola di Dio a me stessa e ho provato vergogna. Non conoscevo me stessa nella mia levatura. Credevo di essere capace e valida. e di meritare anch'io la promozione, come gli altri. Non guardavo se perseguissi o no la verità, se la mia umanità fosse all'altezza o sapessi assumermi un fardello. Facevo confronti e inseguivo la promozione. Non avevo a cuore la volontà di Dio. Non volevo adempiere le mie responsabilità, contribuire al lavoro della Chiesa o dimostrarmi inferiore, ma volevo maggiore prestigio, mettermi in mostra e indurre gli altri ad ammirarmi. Compivo il mio dovere secondo i miei desideri e ambizioni e anche da leader avrei inseguito il prestigio. Ma così è impossibile svolgere bene il proprio dovere. Giusto. Il fatto di non essere una leader in realtà mi proteggeva. Ho anche capito che di fronte a una mancata promozione, una persona ragionevole si accontenterebbe di svolgere bene il proprio dovere, rifletterebbe inoltre sui propri difetti, cercando la verità per risolvere i suoi problemi e si sforzerebbe di cambiare. Sì. Se anche non si viene promossi, sfruttare l'opportunità per riflettere sui propri difetti e apprendere una lezione è una buona cosa. Giusto. Grazie alle parole di Dio ho riflettuto e ho visto che avevo un'allevatura nella media e non perseguivo la verità. Mi bastava eseguire i miei compiti quotidiani e non mi concentravo nell'eliminare la mia indole corrotta. Dopo anni di fede, ero ancora molto competitiva, spesso preoccupata per la mia reputazione e quando non acquisivo prestigio, sfogavo la mia rabbia nel dovere e trascuravo il lavoro. Non possedevo la realtà della verità, ma volevo comunque essere promossa. Non mi conoscevo minimamente. Non dovevo più perseguire la promozione. Dovevo essere obbediente e compiere il mio dovere con i piedi per terra. Questo dovevo fare. Esatto. Quando l'ho capito, non mi sono più sentita inquieta e ho cominciato a svolgere regolarmente il lavoro e a pensare a come concluderlo in modo più preciso e scrupoloso, senza rimpianti. Giusto. Con i fratelli ho anche esaminato le deviazioni, gli errori e i benefici del dovere. Praticare così mi ha fatta sentire sicura. L'odio a Dio. Tempo dopo, la chiesa mi ha affidato la supervisione temporanea di diverse chiese. Questa disposizione mi ha suscitato sentimenti contrastanti. Credevo di avere troppe carenze e che avrei iniziato con l'irrigare i neofiti. Invece, la chiesa mi dava un'opportunità come supervisore. Ho frainteso e dato per scontato che i miei leader non mi promuovessero perché prevenuti nei miei confronti. Invece, avevano scelto in base ai principi di selezione e utilizzo delle persone e alle esigenze del lavoro. Le mie supposizioni erano derivate dal mio desiderio di prestigio che mi rendeva irragionevole. Era molto imbarazzante pensarci. Praticando come supervisore, sentivo una grande pressione e volevo essere ben munita della verità per svolgere bene il mio compito. Nei giorni seguenti, se non capivo, cercavo risposte con i miei collaboratori e dedicavo quasi tutto il mio tempo al lavoro. Ma dopo un po' il lavoro, delle chiese che supervisionavo non dava risultati. E solo allora mi sono resa conto di avere molte carenze e che anche godendo di prestigio è impossibile lavorare bene se non si possiede la verità. Quindi mi vergognavo ancora di più del fatto che prima avessi sempre voluto essere una leader. non mi preoccupavo più di avere l'ammirazione altrui, ma solo di compiere il mio dovere. Avevo un atteggiamento più concreto. Quindi credevo che la mia ricerca di fama e prestigio fosse cambiata e che mi sarei concentrata sul dovere. Ma di fronte a un nuovo ambiente, sono stata smascherata ancora. Nel giugno del 2021, la chiesa mi ha incaricata di occuparmi di un altro progetto che comportava un carico di lavoro maggiore con una scadenza breve. Anche se abbiamo affrontato molte difficoltà con l'impegno di tutti, dopo alcuni mesi, il nostro lavoro è diventato più produttivo e ne abbiamo portato a termine il doppio dell'anno prima. Lodi a Dio. Ero molto orgogliosa. Sentivo di aver contribuito a quel risultato e che di conseguenza, se i leader volevano promuovere qualcuno, avrebbero pensato a me. Inaspettatamente, nei giorni successivi, mentre i leader stavano discutendo di promuovere e formare persone, di tanto in tanto sentivo i nomi di fratelli e sorelle che conoscevo. Queste notizie mi hanno turbato il cuore e sono tornata a rimuginare. Sembra che stiano cercando ovunque persone da promuovere e coltivare e prenderanno in considerazione tutti quelli che sono adatti. Sono stata efficiente nel mio dovere. Perché i leader non mi hanno considerata nonostante la carenza di personale. Forse mi hanno vista per ciò che sono e hanno stabilito che non perseguo la verità e posso gestire solo cose semplici. Se questo è ciò che pensano, avrò mai la possibilità di essere promossa e coltivata. Questi pensieri mi mettevano molto a disagio e il futuro era tetro. Credevo non sarei mai stata promossa per quanto io perseguissi. Sono diventata ostile con i leader. A volte, quando mi parlavano, semplicemente li ignoravo. dicevo il meno possibile e non mi piaceva avere le sorelle intorno. Ero sempre di malumore, taciturna. Desideravo passare il tempo da sola. Inconsciamente, ho smesso di portare un fardello. sentivo che tutto il mio impegno non veniva riconosciuto dai leader. Quindi, perché sforzarsi? Avrei fatto il minimo. Un giorno, ho letto un passo della parola di Dio. Dio Onnipotente dice Se sentono di non possedere prestigio o status, che nessuno li ammira, o li venera, o li segue, allora ne sono molto frustrati. Ritengono che credere in Dio non abbia senso, nessun valore. E si dicono una simile fede in Dio non è un fallimento? Non è forse vana? Spesso ponderano queste cose nei loro cuori. Riflettono su come poter ritagliarsi un posto nella casa di Dio. Su come poter acquisire un'elevata reputazione all'interno della Chiesa. in modo che gli altri li ascoltino quando parlano, li sostengano quando agiscono e li seguano ovunque essi vadano. In modo da avere nella Chiesa un'influenza, una reputazione, in modo da godere di benefici e possedere uno status, riflettono spesso su queste cose. È questo che simili persone perseguono. Perché pensano sempre a cose di questo tipo? Dopo aver letto le parole di Dio, dopo aver ascoltato i sermoni, davvero non capiscono tutto ciò? Davvero non sono in grado di discernerlo? Le parole di Dio e la verità non sono realmente in grado di cambiare le loro nozioni, idee e opinioni? No, nella maniera più assoluta. Il problema origina da loro. Tutto dipende dal fatto che non amano la verità, dal fatto che, nei loro cuori, sono ostili nei confronti della verità e di conseguenza sono assolutamente refrattari alla verità, cosa che è determinata dalla loro natura ed essenza. Amen. Dalla parola di Dio, ho capito che per gli anticristi fama e prestigio sono più importanti di tutto. Se non conseguono il prestigio, la fede in Dio li annoia. Nella fede e nei doveri non sono sinceri, non cercano la verità. Ma per fama e prestigio e per indurre gli altri ad ammirarli e stimarli, dimostra che gli anticristi hanno un'indole estremamente malvagia. Giusto. Ho ripensato a come perseguissi la promozione e quando non è accaduto, sono diventata passiva. La mia ricerca di fama e prestigio mi era sfuggita di mano. Le mie erano espressioni d'anticristo. Sì. I detti mentre l'uomo si affanna verso l'alto, l'acqua scorre verso il basso, un soldato che non sogna di essere generale è un cattivo soldato. Erano veleni satanici che a scuola consideravo leggi, per cui volevo i voti più alti. Se non ero la migliore, dovevo essere una studentessa modello e ottenere la lode dei compagni e degli insegnanti. Dopo aver iniziato a credere in Dio, il mio obiettivo era diventare leader. Acquisendo prestigio, avrei potuto avere un posto nella casa di Dio, farmi notare, indurre più persone a stimarmi e ammirarmi e prendere decisioni. Così, quando il lavoro della chiesa richiedeva personale e i leader non sembravano considerarmi, mi sono sentita passiva e infelice, demotivata nel dovere e non trovavo direzione né un obiettivo da perseguire nella fede in Dio. La ricerca della fama e del prestigio era diventata il mio scopo. Controllava ogni giorno la mia vita e le mie azioni. E così, in qualsiasi gruppo mi trovassi, volevo essere ammirata e lodata dagli altri e odiavo essere messa da parte. Quando i leader mi apprezzavano, pensavano bene di me e mi promuovevano a un lavoro importante, ero soddisfatta. In mancanza di apprezzamento e promozioni, diventavo negativa e abbietta, negligente nei miei compiti, disinteressata e volevo persino abbandonare. La mia fede in Dio non era sincera, ma mossa dal desiderio di prestigio. Se il mio prestigio era alto, perseguivo attivamente, altrimenti perdevo la direzione. Ho visto che la mia ricerca di fama e prestigio era parte integrante di me. Ogni volta che affrontavo una situazione simile, ero negativa, mi ribellavo e non avevo voglia di compiere il mio dovere. Mi sono resa conto del serio pericolo che correvo continuando così. Sì. Poi, ho letto queste parole di Dio. Alcuni hanno davvero a cuore la fama e il prestigio. Non sopportano di rinunciarvi. Costoro ritengono sempre che senza fama e prestigio non vi siano gioia e speranza nella vita. Che vi sia speranza in questa vita solo quando vivono per la fama e il prestigio. Continueranno a lottare anche solo per un minimo di fama e prestigio. Non smetteranno mai. Se la tua mentalità è questa, se il tuo cuore è colmo di tali cose, allora sei incapace di amare e di perseguire la verità. Non hai la giusta direzione e i giusti obiettivi nella tua fede in Dio e non persegui la conoscenza di te stesso. Non elimini la corruzione e non vivi una sembianza umana. Nel tuo dovere tendi a lasciar correre e sei privo di senso, di responsabilità e ti accontenti di non compiere il male, di non dare problemi, di non essere espulso. Potrebbero mai tali persone compiere il dovere in modo accettabile e potrebbero mai essere salvate da Dio? Impossibile. Quando agisci per fama e prestigio, continui a pensare «Mettersi in mostra non è un male. Sto compiendo il mio dovere. Fintanto che non compio azioni malvagie e non rego disturbo, anche se le motivazioni sono sbagliate, nessuno lo noterà o mi condannerà». Non sai che Dio scruta tutti. Se non accetti e metti in pratica la verità e vieni disprezzato e ripudiato da Dio, per te è finita. Tutti coloro che non temono Dio si credono intelligenti, non si rendono conto di quanto lo offendono. Alcuni non vedono chiaramente questo. Pensano «Perseguo la fama e il prestigio per fare di più, per assumermi più responsabilità. Non provoco intralcio o disturbo al lavoro della casa di Dio e certamente non ne danneggio gli interessi, dunque non è un problema grave. Dio non chiede molto e non obbliga le persone a fare ciò che non vogliono. Posso anche amare il prestigio e difenderlo, ma non è un atto malvagio». In apparenza, una simile ricerca può non sembrare un atto malvagio, ma alla fine a cosa porta? Tali persone acquisiranno la verità? Otterranno la salvezza? Decisamente no. Pertanto, perseguire la reputazione e il prestigio non è la strada giusta. È esattamente opposta alla ricerca della verità. Indipendentemente dalla direzione o dall'obiettivo della tua ricerca, se non rifletti sulla ricerca della fama e del prestigio e se ti è difficile rinunciarvi, essi influenzeranno il tuo ingresso nella vita fin tanto che il prestigio avrà un posto nel tuo cuore, controllerà e influenzerà completamente la direzione della tua vita e gli obiettivi che perseguirai e in tal caso ti risulterà difficile entrare nella realtà della verità per non parlare del cambiare d'indole. Se alla fine sarai o no in grado di essere approvato da Dio, è una questione diversa. Per di più, se non sei mai in grado di mettere da parte la ricerca del prestigio, questo ti impedirà di compiere bene il tuo dovere e ti sarà difficile diventare una creatura di Dio di livello accettabile. Perché dico questo? Dio detesta la ricerca di prestigio più di ogni altra cosa perché è un'indole satanica, è un cammino errato che nasce dalla corruzione da parte di Satana. È qualcosa che Dio condanna ed è proprio ciò che Dio giudica e purifica. Nulla lo disgusta di più di questa ricerca, eppure ti ostini a competere per il prestigio, lo prediligi e lo difendi costantemente e vuoi sempre conquistarlo. Per natura, non è avversione nei confronti di Dio? Il prestigio non è decretato da Dio per gli esseri umani. Dio agli esseri umani offre la verità, la via e la vita e in definitiva le rende creature di Dio accettabili, creature piccole e insignificanti, non individui di fama e prestigio adorati da migliaia di persone. E così, comunque la si consideri, la ricerca di prestigio è un vicolo cieco. Per quanto sensato sia il tuo pretesto per il prestigio, questo cammino è comunque sbagliato, non è lodato da Dio. Nonostante i tuoi sforzi e il prezzo che paghi, se desideri prestigio, Dio non te lo concederà, perciò non riuscirai a ottenerlo lottando. E se continui a lottare, vi sarà un unico esito. Sarai smascherato e scacciato è un vicolo cieco. Amen. Queste parole di Dio mi hanno terrorizzata e li percepivo come un suo avvertimento. Pensando al prestigio, ritenendo senza speranza una vita priva di esso e di ruoli importanti, perseguendo in quel modo, contendevo il prestigio a Dio e lo avversavo. Non era un essere creato che compiva il suo dovere e proseguire su quella strada portava a un vicolo cieco. Sarei stata mandata all'inferno e punita. Sì. Spaventata e tremante, ho letto quel passo della parola di Dio tante volte e ho percepito che l'indole giusta di Dio non tollera offesa. Ho sempre pensato che poiché gli esseri umani hanno un'indole corrotta, sia normale perseguire fama e prestigio. cercando di incrementarli e che chi non lo fa non possieda ambizioni né determinazione. Così, non ho preso sul serio la mia corruzione in questo ambito. A volte, mi sentivo negativa, ma pensavo che sarebbe passata in pochi giorni. Non ritardava troppo il mio lavoro e non facevo nulla di inopportuno, quindi non lo reputavo grave. Ma Dio ha detto chiaramente che la ricerca di prestigio è un vicolo cieco. Riflettendoci, ho capito meglio. La ricerca di fama e prestigio è un'indole satanica e una ribellione a Dio. Equivale a opporsi a Dio e a competere con Lui per il prestigio. E chi lo fa sarà punito da Dio per averlo avversato. Giusto. Ho pensato all'arcangelo che godeva già di un prestigio alto, ma non era soddisfatto. Bramava il prestigio di Dio e voleva essere alla pari con Lui e alla fine Dio l'ha scaraventato giù dal cielo. Ero già responsabile di alcuni lavori nella chiesa. Date la mia levatura e la mia statura, non ero degna di assumere un incarico così importante. Eppure non mi bastava. Non mi sforzavo di raggiungere i migliori risultati nel mio compito. Volevo invece svolgere un lavoro più importante per mettermi in mostra ed essere ammirata. Non ero proprio come l'arcangelo. E quando vivevo nella lotta per la fama e il prestigio, non finiva solo in qualche giorno di negatività. Arrivavo a ostacolare il lavoro e a voler mollare tutto perché non ottenevo prestigio e a non prendere sul serio il lavoro, a essere indifferente al dovere, limitandomi al minimo e procrastinando, incurante che il lavoro della chiesa fosse danneggiato. Non mi sottomettevo a Dio. Lottavo per il prestigio ed ero stile se non l'ottenevo. Percorrevo il cammino della ribellione a Dio. Come poteva non detestarmi? Questo pensiero ha destato in me paura e rimorso. Ho pregato Dio per dirgli che volevo pentirmi e non cercare più fama e prestigio. In passato, sapevo solo che era sbagliato per seguirli, ma non conoscevo la natura e le conseguenze di tale ricerca. Quindi, non l'ho presa sul serio quando l'ho manifestata. Ripensandoci adesso, vedo che la ricerca di fama e prestigio è un cammino di ribellione a Dio, il che è assai rischioso. Va risolta ricercando la verità. Sì. E in che modo poi hai praticato e avuto accesso? Ho trovato nelle Sue parole la via per liberarmi dalle catene di fama e prestigio e capito che cosa deve perseguire un essere creato. Leggo io. D'accordo. Questo brano. Essendo una delle creature, l'uomo deve restare al suo posto e comportarsi con coscienza. Custodisci con scrupolo ciò che ti viene affidato dal Creatore. Non agire fuori dagli schemi e non fare cose al di là della tua capacità o cose che siano sgradite a Dio. Non cercare di essere grande o un superman o superiore agli altri. o di diventare Dio. Le persone non dovrebbero desiderare di essere così. Cercare di diventare grandi è un superman è assurdo. Cercare di diventare Dio è ancora più vergognoso. È disgustoso e anche spregevole. Ciò che è considerato veramente lo debole e a cui le creature dovrebbero attenersi di più è diventare creature vere. Questo è l'unico obiettivo che tutti dovrebbero perseguire. Amen. Amen. La parola di Dio dice che Dio odia il desiderio di prestigio e di voler diventare dei superuomini. La vera ricerca da compiere è quella di diventare autentici esseri creati. Grazie alla parola di Dio sapevo cosa perseguire. Io sono un essere creato e Dio sa meglio di tutti quale lavoro posso svolgere. Sì. Qualsiasi posizione io ricopra, ciò che Dio vuole è che io svolga il ruolo di un essere creato in modo concreto e che compia il mio dovere correttamente. Giusto. Devo pregare Dio per abbandonare i miei desideri e qualunque sia il mio dovere, devo obbedire alle Sue disposizioni ad empiere le mie responsabilità e impegnarmi a essere efficiente nel mio dovere. questo dovrebbe fare un essere creato. È vero. Da allora non mi è più interessata la promozione. Ho riflettuto consapevolmente su come essere più efficiente per ottenere i migliori risultati e mi sono concentrata sulla risoluzione dei problemi. Dopo un po' ho iniziato a collaborare con i miei fratelli per superare alcune difficoltà e l'efficienza del nostro lavoro è aumentata. Lode a Dio. Nei giorni seguenti sentivo ancora di tanto in tanto di miei vecchi collaboratori che venivano promossi a leader o supervisori. Ero ancora un po' contrariata perché gli altri potevano farsi notare grazie alle promozioni mentre io restavo bloccata. Ma mi sono subito resa conto che era il mio desiderio di prestigio che riaffiorava. ho pregato e rinunciato a me stessa e ho pensato al passo il prestigio non è decretato da Dio per gli esseri umani. Dio agli esseri umani offre la verità, la via e la vita e in definitiva li rende creature di Dio accettabili, creature piccole e insignificanti, non individui di fama e prestigio adorati da migliaia di persone. Amen. Allora i miei obiettivi si sono fatti chiari. Dio non prestabilisce per le persone il prestigio. Qualunque dovere si svolga, si adempie le proprie responsabilità e si impiegano le proprie forze e abilità nella giusta posizione. Esatto. Essere un leader non significa avere prestigio e non esistono posizioni superiori ad altre. I requisiti di Dio per noi sono che diventiamo esseri creati qualificati e obbediamo alle Sue disposizioni. Questa è la ricerca giusta. È vero. Se le persone non sanno obbedire a Dio e perseguono solo carriera e prestigio, è disonorevole. Ho inoltre compreso che venire a sapere che i fratelli intorno a me venivano promossi era un test di Dio. Lui osservava il mio atteggiamento. Pregando e leggendo le Sue parole potevo accogliere queste cose correttamente e compiere il mio dovere adeguatamente. Lode a Dio! Dopo queste esperienze, ho capito le buone intenzioni di Dio. Se con il mio amore per il prestigio fossi diventata leader, avrei percorso il cammino di un anticristo rovinandomi. Ora so essere obbediente e concreta nel mio dovere. Questi sono gli effetti del giudizio delle parole di Dio. Esatto. Lode a Dio. Lode a Dio. La Tua comunione mi è davvero utile. Lode a Dio. 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 Lode a Dio.